con mister eugenio benuzzi nel post partita di pro livorno sorgenti corticella mister ci avete provato fino in fondo davvero siete andati a un passo dall'uscire indenni anche da questo campo l'avete già fatto insomma più volte recentemente richiede allora che partita è stata dal suo punto di vista beh al di là che bisogna rispettare sempre il risultato del campo il fatto che lei considera che siamo usciti indenni è un ragionamento forse è la sorgente che è uscita indenne da questa partita però insomma rispetto al risultato del campo ricordo su questo colpo di testa e per il resto oggettivamente insomma però giocavamo contro la seconda in classifica grande organizzazione ottimi giocatori gli mancava chiaramente qualcuno ma come manca anche noi accettiamo il risultato del campo però sappiamo che possiamo giocare al pari con l'entigione dove abbiamo perso al novantatresimo abbiamo pareggiato con l'aglianese e oggi va così per cui ci prendiamo questa bella gita al mare a livorno e ritorniamo nelle nebbie bolognesi ci vuol dire qualcosa di più anche su come ha preparato questa partita comunque la sua squadra è stata molto ben presente anche una volta passata in svantaggio non ha mollato non si ha creato ovviamente molte occasioni al di là dei rigori anche un forcing finale insomma per cercare di rimetterla in piedi beh io parto dal presupposto che è un ottimo gruppo io sono subentrato con l'aglianese e niente non posso che parlare bene di questi ragazzi grande disponibilità avremo bisogno di quel famoso rinforzo positivo che che è il risultato però ho chiesto ai ragazzi finita la partita nello spogliatoio di farci un applauso perché perché ribadisco cioè giocavamo contro una grande squadra dove la circolazione poi io ho visto nel pro Livorno Sorgenti giocatori con un grande motore adesso Coverciano ci insegnano a dire queste cose per cui è stato cioè veramente un onore giocare su questo stadio glorioso poi dedicato a un grande giocatore come Picchi però niente abbiamo raccolto abbiamo raccolto una cosa importante che è la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti poi speriamo che il vento il vento dell'Adriatico ogni tanto sia superiore a quello del Tirreno certo l'ultima domanda avete appunto adesso siamo a cavallo del giro di Bovi vi aspettano se non baderato due turni casalingui quindi insomma bisogna metterci sotto perché la strada è ovviamente ancora lunga quindi avrete sicuramente motivo di credere ancora nella salvezza no no sicuramente cioè proprio se non avrei accettato di venire di venire in questa in questa ottima società proprio mi hanno mi stanno accontentando in tutto io le dico l'unico grande problema ahimè ma credo che per tutti è questa gestione di questo covid il fatto che ci sia una grande difficoltà a fare gruppo perché ci si spogliano 4-5 spogliatoi poi credo che tutte le società la difficoltà grande è questa però insomma l'entusiasmo di questi ragazzi prima della partita parlavo che deve essere bello per tutti sognare ai giovani mi auguro che loro giochino su questi campi in maniera continuativa e qualche giocatore che diciamo è un pochino più datato potrà raccontare ai nipoti che quel giorno io la chiamo l'ardenza al di là di tutto per ricordi così ci eravamo questo è quello che ci deve animare e poi sono convinto che nel ritorno renderemo pan per focaccia a questa splendida squadra che sono il Pro Liborno bene mister la ringraziamo davvero buon proseguimento di stagione grazie buona giornata e buon lavoro